Amici di AC Milan Inside, oggi andremo a parlare di rinnovi. Parliamo del caso Giroux. Come sapete, a giugno 2024 scadrà il contratto del francese con i rossoneri e sembra che abbia già raggiunto un accordo verbale con i Los Angeles FC. Quindi lo vedremo in America fino al 2026. Mancherebbe soltanto la firma. In casa Milan, uno dei prossimi tormentoni sarà il rinnovo di contratto di Mike Magnan. A breve ci saranno gli incontri e i colloqui Da come riporta il Corriere dello Sport, il club non vuole privarsi di uno dei portieri più forti al mondo e punto cardinale dell'allenatore Pioli. Soprattutto perché è diventato un giocatore fondamentale sia dal punto di vista tecnico ma anche dall'impatto carismatico. Ci sono grandi pretendenti, abbiamo il PSG e soprattutto il Bayern Monaco. Ad oggi il contratto scade nel 2026 ma il Milan è già pronto a spostare la scadenza per altri tre anni. Si parlerà sicuramente di cifre, saranno proprio loro a fare la differenza. Nello specifico, Magnan guadagna 2,8 milioni netti a stagione. Il club rosso-nero è pronto a raddoppiare l'attuale ingaggio mettendo sul piatto 4,5 milioni più bonus. Le indescrizioni parlano di una richiesta del giocatore di uno stipendio da layout. Dunque 6 milioni. Il lavoro dei prossimi giorni sarà quello di venirsi incontro. Grazie. Grazie.